www.feyyaz.tv E anche se per poco, quell'incontro ti rimane nel cuore e te lo porterai per sempre dentro. Qualcuno mi ha detto che ci si innamora soltanto una volta, ma io non ci credo. L'energia non si crea e non si distrugge, tutto si trasforma. Anch'io avevo bisogno di trasformarmi in qualcosa di migliore e con Vladimir ci stavo riuscendo. Io penso che bisogna essere sinceri e autentici con le persone che ci vogliono bene. Sì, può essere, ma qui non siamo in Italia, Massimo, qui siamo in Russia. Ormai l'odio ha preso il sopravvento e più dopo la legge di Putin la paura è aumentata. Il rispetto viene dalla testa, ma l'odio viene dal cuore. Nessun sentimento è completamente sotto il nostro controllo. A volte è più comodo credere all'immagine che gli altri hanno di noi, che accettare veramente quello che siamo. Grazie.